Una nuova serie che racconta le diverse esperienze di pesca sulle acque dei litorali italiani, dando spazio anche a tecnica, pasture e accessori per affrontare consapevolmente questa appassionante disciplina. Il mare dalla riva, dal 1 luglio ogni domenica alle 21.30 in esclusiva su Pesca, canale 236. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS